What's up, my brain inglese family. Oggi ragazzi farò un misto tra italiano e inglese, ma I want to explain three super common, confusing, useful, must know things in English. The difference between used to, be used to and get used to. So, iniziamo subito. Prima, used to è quasi un'inflazione di un tempo verbale che significa un'usanza del passato, qualcosa che facevi una volta ma non lo fai più. Quindi lo facevi tante volte, non solo una volta, ed è nel passato, non lo fai più. Be used to, e questo be si può coniugare chiaramente. I am used to, you are used to, you were used to, you will be used to. Significa essere abituati. Ok? So, pretty literal translation here. Last is get used to, which is actually abituarsi a qualcosa. Get used to something. Ok? So, let's do some examples. To start, fumavo. Un esempio classico. Fumavo. Forse in italiano suona strano dirlo da solo tipo. Sì, fumavo. Ma in inglese è normale, perché in inglese diremo non I smoked. I smoked vuol dire tipo una volta due giorni fa ho fumato. Fumavo, I used to smoke. Ok? Quindi devi solo mettere used to in mezzo così tra il verbo e la persona. Quindi tu fumavi, you used to smoke. Ok? E questo vuol dire tu fumavi una volta. So, vediamo adesso questo discorso. Ma tu fumi sarebbe do you smoke? La risposta può essere naturalmente I used to smoke. Ma voglio insegnarvi un trucco. Puoi anche semplicemente dire I used to. Così e basta. Perché in inglese facciamo questa cosa con verbi ausiliari. Puoi semplicemente dire I used to. E basta. Perché chiaramente stiamo parlando di fumare. So, do you smoke? I used to. That's it. Stop. Basta. Ok? So, you can use this trick. Do you play basketball? I used to. Si capisce. Giocavo a basket. Ma non devi ripetere il verbo. Ok? Let's continue. Now. Sono abituato a lavorare dieci ore al giorno. So, sono essere. Essere abituati. Useremo be naturalmente allora. So, sono abituato. I'm. Sono. I'm. Used to. Questo non è questo used to. It's be used to. Quindi questo used to è diverso. I'm used to working. Questo è fondamentale e importante. Quando abbiamo be used to, con un verbo dopo, ad esempio, sono abituato a pulire la casa. Pulire sarà ing, gerundio in inglese. I'm used to cleaning the house. Con used to, habit of the past, si rimane nella forma base del verbo. Senza ing. Senza ing, con. Senza, con, senza, con, ing. Ok? So, I'm used to working dieci ore al giorno. Let's say ten hours a day. E stop. Ok? Next is... Ma come fai? Beh, ci sono abituato. So, come fai? It's like, how do you do it? Like, come lo fai? How do you do it? La risposta, ci sono abituato. So, I'm used to... Ma devi aggiungere qualcosa. Devi mettere un oggetto qui. Quindi, I'm used to, sono abituato a... che cosa? A it. Quindi, sono abituato senza un verbo, senza l'oggetto scritto. In inglese si direbbe... I'm used to it. Ok? Ci sono abituato. I'm used to it. Next. Non ti preoccupare. Ti abituerai. Quindi, vedi che qui non c'è essere. Quindi, non sarà più be used to. Adesso sarà get used to. L'azione di abituarsi. Quindi, so, non ti preoccupare, ti abituerai. So, don't worry. E abbiamo il futuro, no? Quindi, you will get used to it. Di nuovo, devi mettere questo oggetto. You cannot just say, you will get used. Non si può fare così e basta. Devi aggiungere l'oggetto. Don't worry, you will get used to it. Ok? Ti abituerai. You'll get used to it. Another example. Non è facile abituarsi a una nuova cultura. So, it's not easy. Dopo un aggettivo, mettiamo infiniti. So, it's not easy to get used to. Abituarsi a che cosa? A new culture. Boom. It's not easy to get used to a new culture. It's not easy to get used to a new culture. No, it's not. So, let's continue with more examples. Remember, here's your key. And let's continue. Pensavo che la pizza con ananas fosse buona. Una volta. Ma poi l'ho mangiata e ho pensato, mi sono reso conto, non è buona. Quindi, it's not just I thought. Può essere, I used to think. Perché? Lo pensavo, lo pensavo, lo pensavo, lo pensavo. Forse poi l'ho mangiato e mi sono reso conto, non è buona. So, I used to think pizza, or we say pineapple pizza, was good. I used to think pineapple pizza was good. Ma adesso mi rendo conto, non lo è. So, I used to think. Una volta pensavo, or pensai, if you want to go there. What about mi sto ancora abituando? Non abbiamo essere. Abbiamo l'azione di abituarsi. Quindi sarà get used to. E abbiamo anche il gerundio qui. Okay? So, progressive. Present continuous. So, let's say, I'm ancora still getting used to it. E di nuovo, sì, dobbiamo sempre mettere l'oggetto. I'm still getting used to it. So, now I'm going to go a little faster until the end of the video. So, perché lo fai? So, why are you doing that? Perché lo stai facendo? Prima non ti comportavi così. You didn't use to act like that. Boom. Questo è molto difficile. Il passato rimane nel verbo ausiliario. Did. Quindi adesso la D di use non ce ne bisogna più. So, you didn't use to act like that. Prima non ti comportavi così. You didn't use to act like that. But now you do. Now you do act like that. Non sono ancora abituato a parlare l'inglese tutti i giorni. So, essere abituati. Essere abituati. So, I'm not used to speaking English every day. I'm not used to speaking English every day. So, notice again. Essere abituati ci vorrà ing. Boom. Ok? Ci parlavamo al telefono ogni giorno. So, we used to talk on the phone every day. We used to talk on the phone every day. Romantico. Vuol dire se leggi questa frase capisci subito che non si sentono più al telefono ogni giorno. Ok? But they used to. Lo facevano una volta. Sei abituato ad allenarti per tre ore al giorno? Abbiamo una domanda qui. È essere abituati. So, you are used to, but it's a question. So, instead of you are used to, diremo are you used to working out? Di nuovo. Con essere abituati. Ing. Il verbo segue. Are you used to working out for three hours a day? Are you used to working out for three hours a day? And the last one. Ora sei semplicemente qualcuno che conoscevo. Questo forse lo riconoscete. Now you're just somebody that I used to know. I used to know. Che conoscevo. Che adesso non conosco più. Ora sei semplicemente qualcuno che conoscevo. Now you're just somebody that I used to know. So, basta così ragazzi. Queste costruzioni sono importantissime. Bisogna saperle e spero che adesso le abbiate capito. Quindi ragazzi, se vi piacciono questi contenuti, dovete iscrivervi alla mia classe. Bring us a English class. Se lezioni al mese per 10 dollari. In più, adesso abbiamo un Discord, un chat della comunità continua. Quindi puoi anche praticare l'inglese lì. Link nella descrizione. Però ragazzi, per il resto, spero come sempre che vi sia piaciuto. I'll see you guys next time and peace. Let's do this. Grazie a tutti